Green Pass anche per entrare nel santuario della Verna. A confermarlo ed anticipare tutte le regole da seguire dal prossimo 6 agosto è lo stesso padre guardiano tramite il profilo Facebook della comunità. Nel caso di una visita al santuario per la ristorazione, il soggiorno in foresteria e l'accesso al museo sarà necessario il Green Pass, si legge, mentre invece per la sola visita ai luoghi di culto sia personale che nei momenti liturgici tale documento non sarà necessario. Ricordiamo, prosegue, che il nostro ristorante offre anche la possibilità di pranzi e non cena ed asporto da consumare all'esterno della struttura. Per tale opzione non sarà al momento necessario presentare il Green Pass. Anche i frati francescani dunque invitano tutti a tenersi sempre aggiornati sulle disposizioni per limitare la diffusione del contagio che purtroppo nei mesi scorsi aveva interessato anche lo stesso santuario. Diversi religiosi erano infatti risultati positivi al virus che era riuscito ad entrare alla Verna con un novizio che si era sottoposto ad un intervento chirurgico. Fortunatamente tutto si era risolto con la quarantena e nessuno dei contagiati aveva avuto gravi conseguenze.